In linea lo studio. Audizione stamani in Commissione Istruzione al Senato della Federazione Scuole Paritarie Cattoliche. Abbiamo raggiunto Virginia Kalagic, Presidente Nazionale. Dal 2000 con la legge della parità in Italia c'è il sistema, sottolineo questa parola, pubblico integrato, fatto di scuola statale e di scuola paritaria. Purtroppo abbiamo visto che in questo periodo la scuola paritaria è diventata un po' trasparente, assente nei documenti. Noi adesso stiamo predisponendo anche tutto un dossier per dire che nonostante questa dimenticanza qual è stato l'impegno della scuola paritaria. Chiediamo di essere considerata scuola, siamo italiani, i nostri bambini, i nostri alunni, e le nostre famiglie, i nostri docenti sono cittadini italiani e come tutti stiamo vivendo questa emergenza.